Sì Lorenzo, ci troviamo in una traversa di via Roma, siamo a Martinsicuro, dietro di me l'azienda Tacoplast all'interno della quale si è verificato purtroppo questa mattina l'ennesimo incidente su lavoro in provincia di Teramo. Un operaio di 37 anni, residente a Bellante, dipendente della Capriotti di Tortoreto che si occupa di bonifica dell'amianto è caduto, ha fatto un volo di quasi 5 metri, si trovava su un carrello elevatore all'interno della Tacoplast. Sulle cause, sulla dinamica, sono in corso le indagini, gli accertamenti da parte dei carabinieri ma anche del personale della medicina del lavoro che questa mattina si è portato in questa azienda. Stando a quello che abbiamo appurato venendo qui di persona, il ragazzo, l'operaio di 37 anni, è stato soccorso subito da alcuni colleghi ed è emerso che in quel momento, nonostante indossasse l'imbragatura prevista dai dispositivi di sicurezza sul lavoro, proprio in quel momento avesse sganciato e si fosse proteso in avanti, oltre quindi il carrello per afferrare una lastra. Tutta chiaramente da confermare questa ricostruzione, fatto sta che il 37enne è stato soccorso dal 118 e trasferito d'urgenza all'ospedale Mazzini di Terra. Ovviamente stiamo andando in onda, si sta svolgendo un intervento chirurgico per la rottura della Milza. Si tratta dell'ennesimo incidente. La casualità vuole che questo ragazzo di 37 anni fosse collega del dipendente della Capriotti che, lo ricorderete, il 5 aprile scorso, nel pomeriggio di quella giornata, di quel venerdì, precipitò da un'altezza sempre di oltre 4 metri e mezzo, mentre lavorava sullo tetto di un'azienda, il capannone di Sant'Atto, di proprietà della Mediterranea Sementi SRL. A te la linea.